Garantire maggiore trasparenza ai consumatori per i contratti dell'energia elettrica. Questa è la richiesta ribadita anche da Salerno in occasione del ventennale della sede locale di Feder Consumatori dal presidente nazionale dell'associazione. Questo alla luce di una situazione di grande confusione vissuta in Italia con oltre 800 aziende impegnate nel settore che nei mesi scorsi hanno letteralmente bombardato di offerte e solleciti i consumatori in vista della fine del cosiddetto mercato tutelato invitandole a scegliere un nuovo operatore. Dubbi e timori condivisi dal governo che poi ha portato all'approvazione dei giorni scorsi in commissione bilancio di uno slittamento al primo gennaio 2022 proprio per la situazione di confusione venutasi a creare. Fino ad allora le famiglie italiane e anche quelle salernitane potranno tirare un sospiro di sollievo in attesa dell'adozione di misure di regolamentazione del mercato libero. Le persone rimangono nel mercato tutelato perché c'è un overdose di offerta, non c'è stata una selezione delle imprese. Le persone preferiscono avere certezze anche perché le offerte mirabolanti che vengono promesse noi abbiamo potuto monitorare che passati i primi 6-12 mesi poi invece hanno un costo diverso e più alto rispetto a quello che viene somministrato secondo le tariffe dall'autorità. In sostanza è come il mercato delle fauniche diventato? Sì, un po' peggio perché almeno lì gli operatori sono un numero contenuto e dunque è possibile fare anche un paragone. In Italia operano 887 aziende sul mercato elettrico che vuol dire che le persone non sanno davvero come misurare la qualità dell'offerta che gli viene proposta. E c'è una campagna molto aggressiva, molto invadente, ai limiti a volte di vere e proprie azioni illegali come per esempio il fatto che attraverso una semplice risposta ti attivano un contratto che da te non è stato richiesto. Il consumatore è un cittadino che va in qualche modo tutelato, non è possibile che si bombardi continuamente il cittadino anche con mezzi e sistemi anche poco chiari, con telefonate continue, con minacce e quindi i cittadini hanno bisogno invece di comprendere meglio che cosa sta avvenendo. Noi siamo nel mercato tutelato, tutti siamo per difendere i cittadini e dimostrare i loro diritti, i diritti a non essere truffati, ma anche a cercare di capire i bisogni dei cittadini e trasformarli in diritti attraverso una serie di battaglie. Grazie.